Il primo ministro Giorgia Meloni è atterrato a Nuova Delhi, dove domani e domenica parteciperanno al G20. Tra i bilaterali che avranno il primo ministro Giorgia Meloni a Nuova Delhi a margine del G20. Ci dovrebbe essere anche quello con il proprietario. Narendra Modi. In programma domani nella fitta agenda del premier indiano. Meloni dell'aeroporto della IE Stato. Accolto dal ministro dell'agricoltura Shoah Karandlaie e uno spettacolo di danza breve organizzato da un gruppo giovani ballerini. Ho avuto il grande piacere di accogliere il primo ministro italiano. Giorgia Meloni. All'aeroporto di Nuova Delhi. È arrivato partecipante partecipante fatto che partecipava a Tene previsti i leader del G20. Ospitati nella capitale dell'India. Ha scritto il ministro indiano. Pubblicando foto e video dell'atterraggio del premier italiano. Le autorità che hanno ricevuto Meloni. Anche l'ambasciatore italiano in India. Vincenzo De Luca.